Dopo due giorni di piogge persistenti ma di intensità moderata, a Pesaro riaffiorano vecchi problemi su zone dai cronici allagamenti. Hanno infatti destato stupore e disappunto le immagini delle panchine dello stadio Benelli, ieri completamente sommerse d'acqua, a nemmeno quattro mesi dal completamento dei lavori del rifacimento del manto erboso e del suo sistema di drenaggio. Il tutto 24 ore dopo Vispal di Serie C. Critiche da parte dell'opposizione in consiglio comunale a cominciare da Daniele Malandrino sul lavoro reputato tanto oneroso quanto ancora inefficace. Pronta oggi la replica dell'assessore Riccardo Pozzi che in un comunicato ha precisato come quanto accaduto sia stato semplicemente una mancata attivazione degli automatismi che permettono alle pompe di smaltire l'acqua. Una situazione che è stata risolta in poche ore con l'attivazione manuale delle pompe, tant'è che l'avessi allenata regolarmente anche questa mattina. Per Pozzi si tratta di un incidente che si sarebbe potuto evitare ma l'intervento che è stato realizzato complessivamente sul Benelli è stato ottimo. Pozzi che ammette dunque come si stiano valutando anche azioni legali nei confronti di chi ha esagerato proferendo gravi falsità sull'accaduto. Non solo lo stadio Benelli, la domenica ha visto allagarsi anche il campo scuola di Via Respighi dove da tempo manca un corretto sistema di reggimentazione delle acque. Puntuale si è allagato anche il sottopassaggio stradale di Loreto col traffico deviato per tutta la mattinata di domenica in attesa del drenaggio e dell'annesso monitoraggio della crescita delle acque del torrente genica. Criticità croniche come quelle del centro direzionale Benelli dove ad ogni acquazione si creano violenti scrosci d'acqua all'interno della struttura residenziale e commerciale in allagamenti allargati anche alle vicine strade marciapiedi.